Bella a tutti ragazzi, io sono Samway, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo con i miei amici, salutate Ciao Bella Jacopo purtroppo è... Allora, oggi, ragazzi, da come mi conoscete che io sono Alberto Abbiamo mio cugino Riccardo Ragazzi Ragazzi, purtroppo Jacopo non poteva stare in videocamana Spero che fra un poco lo chiamiamo, magari fra un poco Che poi, comunque, voglio dire una cosa Jacopo, infatti, aveva detto così Mi raccomando, ragazzi, codice creatore Samu Nel negozio oggetti di Fortnite, mi raccomando, mettetelo tutti Samu Codice, andate sul negozio oggetti Mettete codice Samu E premete accetta Così potete supportarmi Mettilo, Ricci, mettilo Mettilo Perciò Ovviamente, se volete Se volete sciuppare una skin Ovviamente Supportiamo Ok, torniamo Vai Sì Oggi Ah, Samu Ha la skin di ninja Lo faggliela vedere? Samu Vogliela vedere? Sì Samuel, vogliela vedere? Sì Annangia C'è quella skin Galaxia Galaxia Come galaxia E no, la femmina galaxia E ma come si chiama la femmina di galaxia Come si chiama galaxia Non mi ricordo che la femmina di galaxia Va bene? La femmina di galaxia La femmina di galaxia E la femmina di galaxia E la femmina di galaxia Mettete bronzo Vabbè mettiamo manco Io sono un mago Oh, la sei da? Io sono un mago E io? E io? Pazzolo Io calcio Salto Palleggio Chi è? È Jacopo Noniti, noniti, le fù Jacopo è Noniti, le fù È Jacopo È Jacopo Aspettate Io lo devo dire Jacopo adesso puoi stare in chiamata No No Stai in chiamata Adesso puoi stare in chiamata Jacopo No, non posso stare in chiamata E non può E ho capito Jacopo Togli te le buffie Togli te le buffie Togli te le Ti sento un casino Jacopo Alberto Ha detto di toglierti le cuffie C'è un casino Se no Nonno 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 C'è un casino Ha detto Alberto Di toglierti le cuffie Perché? Perché c'è un casino Perché c'è un casino Ok Ok Dai Togli te le Ma perché Ma perché tu così Io ho abbandonato Non è più Ah c'era la C'era la Riconnessione Aspetta Samuel Lo devo aggiungere E aspetta Prima scendiamo Non è vero 태од E Chiai Che hai L sina Anche Are Un Il 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 L Il 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 ma chi si sta chiamando lo sto aggiungendo Alberto 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 io sono atterrato alla cosu perché doveva giungerlo mannaggia vieni alla bugia Alberto Alberto per favore chiudi un attimo la chiamata richiami che voglio far sentire gli schizzi della mia suoneria ok ragazzi puoi uscire la mia suoneria è vero ma non mi chiamo non mi chiamare non mi chiamare ragazzi non mi chiamare più no mannaggia Alberto Alberto chiama mia gli ho mandato il messaggio sai che faccio la cosa che muoio dai ragazzi li ho mandato ragazzi lo sto chiamando io se non mi chiamano sono aperto chiamami faccio così così sta ferma personaggio mi chiami va bene va bene però comunque io avevo chiesto di chiamarmi ma sei tu che avevi chiuso prendiamo la scheda di Jacopo l'ho presa io già però io avevo detto di chiamarmi aspetta che devo aspetta Samuel ok sto chiamando Riccardo ecco vabbè raga ve la faccio sentire un'altra volta qualcuno ha guai a voi se mette le cuffie perché si sente un casino prendiamo un materiale Alberto ci sentiremo Alberto chiami va bene io chiudo chiamami va bene voglio far sentire la mia suoneria va bene no 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 quale suoneria la mia suoneria di telefono ma la son già ma c'è il mio telefono ma la son ma la soneria ma la soneria di che stai parlando la soneria la soneria del telefono ma stai deficiente ma la soneria ma la soneria del telefono ma se ce l'è già la soneria alberto chiamami va bene quello vuoi sentire la mia soneria va bene va bene va bene va bene mi stai volendo ciao mannagio raga e che cavolo ma non mi chiamo ma non mi chiamo non volete vedere che ma non mi chiama più mi chiami mi alberto mamma mia raga raga è vero che no? non si fa così no vabbè raga che sta succedendo? sto cercando di chiamare ma perchè non mi hai chiamato? ok eh sa quello non vedi che c'è un casino quanta gente devo aggiungere no madonna mia mi sparano vabbè raga vabbè raga vabbè raga ve la faccio sentire un'altra volta ma sa quella proteggimi almeno tu credo sto venendo sto venendo dove sono i nemici non i materiali aggiungi tu cucina mannaggia ma perchè riccardo ragazzi scusate per il casino no da quale ti proteggo io tranquillo ma da quale cura lo sto curando mannaggia il joystick ragazzi scusate no no c'è troppa gente no ok l'ho curato ho venti di vita volete delle ruote? prendetevele bravo proviamo a chiamare Jacopo no ma c'è no ma c'è no ma c'è merikit che c'è no ma c'è no ma c'è no ma c'è sono morto no ma c'è il kit ma pura si hai un po' chiesto la vita oh un merikit ma non faccio il tempo no mi sto chiamando per no ma c'è no ma c'è ecco 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 Jacopo saluta Jacopo se mi invidio posso giocare posso parlare ma non troppo sai ma stiamo facendo il video sì aspetta che aspetta aspettate che aggiungo alberto sì saluta alberto no saluta Jacopo volevo dire no alberto saluta Jacopo ciao a tutti ragazzi eh nanzi si cercano di chiamare alberto sono i canicazzi no ci sono tutti bromo ti chiamo saio ciao ok ciao ecco la mia numeria no 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 quella dei conica raga eccomi aggiungo mio cugino sì aggiungo Jacopo no me ne ho accorto della tempesta ah subito subito dai 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 ok sono viva aggiungi andiamo in zona ok andiamo in zona ragazzi ci siamo scusate io ho trovato un'arma blu io ho un pompa ho un pompa del nonno blu ma andiamo in safe andiamo in safe andiamo in safe raga andiamo in safe ok io non c'ho matto ma ecco la prendete giustati i materiali eh si non ho i materiali si non ho i materiali poi guardiamo è la nostra fila cosa è questo Matteo Diego? che è questo? non sono io lì dentro Alberto non sono io lì dentro del ma a non sono io lì dentro Alberto che sta succedendo no Riccardo morirà io ce la faccio io ce la faccio non ci la faccio io moio io moio ce l'ho fatta sono vivo ahia uno di vita muori deficiente di un nemico niente sono morto io ho uno di vita bravi raga ucciso vai più due ragazzi io con un colpo sono morto ragazzi c'è un altro nemico ragazzi con un caspia di colpo sono morto uno di vita ragazzi ho ucciso un nemico con uno di vita ragazzi ho ucciso un nemico con uno di vita ragazzi ho ucciso un nemico con uno di vita alber Jacopo ho ucciso un nemico con uno di vita bravo grazie grazie guardi tutti te dai che la vinciamo sta partita dai che sono fortissimo noia ecco niente raga c'è niente si tanta anche dai dai siamo in quattro noi anzi no non più in quattro ma a terra non più in quattro ma ho 24 di vita ma ho 4 metri ho scaricito nooo raga io credo in voi nooo ho 4 di vita cavolo cavolo nooo terzi raga ragazzi ragazzi facciamo un'ultima partita ragazzi facciamo un'ultima partita ragazzi facciamo un'ultima partita fatevi parlare ragazzi facciamo un'ultima partita e chiudiamo il video perché già facciamo un'ultima partita facciamo un'ultima partita ragazzi 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 non parlate di poco e mi deve dire una cosa ai suoi iscritti mannaggia a voi però allora allora facciamo l'ultima partita devo chiudere ciao 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 bro bro metti squadre perché dobbiamo fare l'ultima partita che è già da 18 da quasi 19 minuti che siamo in video terzetto facciamo un'ultima partita e Jacopo sei andato no 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 Jacopo ancora c'è ancora unisci di Riccardo Ricchi vieni Ricchi ma ti hanno bannato ecco ti Alberto ti ricordi lo scherzo che ti ho fatto che facciamo finta di essere che mi hanno che mi hanno bannato ti ricordi lo scherzo che ti ho fatto ieri sì mi hai fatto arrabbiare molto pure ma Jacopo ha detto che non deve chiudere la chiamata però la chiamata la chiamata però però metti metti in squadra che facciamo l'ultima partita e dobbiamo chiudere il video no dai voglio fare creativa vabbè chiudiamo ragazzi spero tanto che questo dire a Jacopo così togli dire a Jacopo così togli le cuffie ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto lasciate un like attivate la campanellina al prossimo video ciao ragazzi see you ciao